Conti in chiaro scuro per la britannica Royal Mail, che nel suo primo trimestre fiscale riporta entrate grosso modo identiche a quelle dell'anno precedente. Privatizzate nel 2013 in quella che i critici hanno chiamato una vera e propria svendita, le poste di sua maestà affrontano un ambiente molto competitivo. Nonostante la decisione di Amazon di consegnare sempre maggiori pacchetti per conto suo, però, l'azienda registra un aumento dei volumi dei colli consegnati in Gran Bretagna e delle relative entrate, bene anche il ramo europeo, mentre i volumi della consegna lettere nel mercato casalingo sono calati vistosamente.